Sì, soltanto un minuto, Presidente, per segnalare su questo emendamento, come anche sul precedente della collega Caretta, questo riguarda lo spostamento dei fondi per straordinarie assunzioni delle forze dell'ordine, così come quello prima riguardava il reddito di cittadinanza. Io credo che dobbiamo essere un po' seri in quest'Aula. In ogni occasione, diciamo e abbiamo detto, tutte le forze politiche, fino a qualche settimana fa, che servivano più fondi per supportare il lavoro delle nostre forze dell'ordine, più fondi per assumere poliziotti, vigili del fuoco, polizia penitenziaria, carabinieri, finanzieri. In ogni occasione non manca occasione per ripetere questa filastrocca. Poi, quando ci si mette mano in termini di variazione di bilancio, perché di fronte a una invasione che si sta perpetrando, anche in termini di immigrazione clandestina, è evidente che bisogna togliere i fondi ai percorsi di protezione e di inclusione e destinarli a chi l'immigrazione clandestina deve fermarla, se non lo fa il Ministro dell'Interno che non ferma i reparti, che non ferma l'immigrazione clandestina, che non ferma qualsiasi violazione delle norme in questo Paese. E come si fa? Si fa mettendoci più uomini, più donne, più risorse. Così come la stessa ipocrisia si registra sul reddito di cittadinanza, tutti vanno in televisione a dire che vogliono riformarlo, rivederlo o abolirlo. Poi, quando qualcuno propone esattamente questo, cioè di depotenziare questa misura, l'Aula, il Relatore, il Governo puntualmente votano in modo contrario. Allora dobbiamo essere seri e conseguenziali rispetto alle dichiarazioni che facciamo tra le dichiarazioni stampa e quello che votiamo in quest'Aula. Se quest'Aula ha un ruolo e se quest'Aula ha un senso, se invece è semplicemente l'ente ratificatore di decisioni prese al Governo o fuori dal Governo, allora mi preoccupo e forse potremmo far risparmiare molti soldi agli italiani e forse allora avevano ragione quelli che come il leader del Movimento 5 Stelle proponeva la estrazione dei parlamentari. Quindi io ho fatto solamente questo intervento perché vale per molti punti e per tutti gli emendamenti che abbiamo presentato, ma su questi due mi volevo soffermare, richiamando l'Aula a una maggiore coerenza e una maggiore conseguenzialità rispetto alle dichiarazioni che si fanno fuori da questo Palazzo e agli atti che si votano dentro questo Palazzo. Grazie.